Salutiamo anche questa amica, allora andiamo subito con il prossimo brano musicale perché mi diceva che andiamo a contentare l'amica Serena che aveva richiesto Aldo Siboni questo nostro collega che sarà con noi ospite appunto il 10 maggio e andiamo a dedicarli ma non solo a Serena ma a tutti coloro a cui piace la musica di Aldo Siboni Vai regia che tocca a te! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti